Lucera avrà la sua caserma dei Vigili del Fuoco, una pagina storica, è stata scritta nei giorni scorsi a Palazzo Mozzagrugno dove è stata firmata la cessione del terreno sul quale verrà edificata la nuova caserma dei Vigili del Fuoco. La cessione è avvenuta alla presenza di un notaio, del sindaco di Lucera Giuseppe Pitta, del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, del dirigente del provveditorato alle opere pubbliche e del dirigente del patrimonio. Nella stanza del sindaco, dove è avvenuta la storica firma, erano presenti anche assessori e consiglieri comunali. Una giornata storica per la città di Lucera che potrà godere di una caserma dei Vigili del Fuoco moderna, sicure al passo con i tempi. Il presidio dei Vigili del Fuoco è strategico per Lucera ma anche per i Monti Dauni e deve rappresentare una priorità, ha detto il sindaco Giuseppe Pitta. Dopo la cessione dei terreni per l'edificazione della caserma, la Giunta Comunale poi si è riunita per trattare un tema che le amministrazioni degli ultimi decenni hanno lasciato nel dimenticatoio, ha continuato Pitta. L'edificazione di nuove edicole funerarie che vadano ad eliminare lo scempio della tomba San Francesco, parzialmente crollata, e del grande fosso che adorna da molti anni il monumentale cimitero di Lucera. La Giunta ha dato atto di indirizzo ai dirigenti di attivare nel più breve tempo possibile una manifestazione di interesse per l'edificazione di quelle due aree cimiteriali e per la fornitura di tutti i servizi connessi alla gestione del cimitero, oggi forniti da società diverse ed in parte con dipendenti comunali. Come annunciato dal Sindaco, durante il Consiglio Comunale dello scorso 15 aprile è stato approvato un atto di indirizzo con il quale si è dato impulso dunque alla risoluzione di molti dei problemi che attanagliano il nostro cimitero comunale ormai da decenni e dei quali le precedenti amministrazioni hanno tanto parlato ma mai affrontato, ha detto l'assessore alle politiche cimiteriali Emanuela Gentile. Alla sterile propaganda preferiamo gli atti che risolvano i problemi della nostra città e dei cittadini e il cimitero comunale sicuramente uno di questi. Alla scarsità dei loculi, alla parziale inefficienza dei servizi andava a posto, continua il Sindaco Pitta, rimedio con determinazione ed è quello che abbiamo fatto. Adesso vigileremo affinché gli uffici operino in modo celere nella produzione di tutti gli atti conseguenti e necessari a porre la prima pietra. Ha concluso il Sindaco di Lucera Pitta. Grazie.